Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Stora Combo P Italia. Me l'avevate chiesta in tanti, dopo la battaglia di mezzo giugno in tanti mi avete chiesto di parlare anche della battaglia di mezzo agosto. Io inizialmente avevo progettato di farla a settembre, sarebbe stato uno dei video delle prime settimane, ma visto che me l'avete chiesto in tanti ho anticipato e ve la faccio uscire oggi. Mezzo agosto insieme a mezzo giugno sono ricordate per essere le due grandi vittorie della regia marina ed ovviamente del loro alleato germanico che fornì i sottomarini, fornì soprattutto aerei contro le forze alleate. Due vittorie che se non riuscirono ovviamente a ribaltare i risultati della guerra nel Mediterraneo, anche perché di lì a poco si sarebbe commattuta la battaglia di Alamein, riuscirono quantomeno a risollevare il morale della nostra flotta, che fino a quel momento aveva conosciuto solamente sconfitta, almeno per quanto riguardava le unità maggiori. Tutto ciò che è successo fino a questo momento l'ho già riassunto, l'ho riassunto nella playlist dedicata alla seconda guerra mondiale che trovate in descrizione, l'ho riassunto all'inizio del video dedicato alla battaglia di mezzo giugno, anche quello l'ho trovato in descrizione, guardate qui sotto, trovate il link. Vi dirò semplicemente questo. Dopo la sconfitta nella battaglia di mezzo giugno, questo tentativo degli alleati di rifornire Malta, che era ancora una spina nel fianco per l'asse, che vi ricordate, io ve lo dico molto rapidamente, andati a rivedere il video, gli alleati avevano tentato di far partire due convogli in contemporanea, uno da Gibilterra, uno invece da Alessandria d'Egitto, due convogli che nelle loro idee avrebbero dovuto cercare di raggiungere Malta, che era assediata, era duramente provata e aveva una forte necessità di rifornimenti, rifornimenti che le posamine, i sottomarini che fino a quel momento avevano rifornita, non erano in grado di dargli il numero sufficiente. Questo tentativo era miseramente fallito e per questo, nonostante due mercantili, due piroscafi attrezzati ai mercantili, fossero in effetti riusciti ad arrivare a Malta, scaricando in realtà una quantità di materiale non sufficiente, soprattutto perché non era arrivata la petroliera e la benzina era quanto di più importante servisse, ebbene nell'agosto del 1942 la situazione era ancora sempre la stessa. Gli alleati avevano un disperato bisogno di rifornire Malta, che secondo il loro intelligence, qualora fosse stata attaccata da Lazze, non avrebbe avuto assolutamente i mezzi per difendersi. Nevi a terra perché mancavano i rifornimenti, ma soprattutto dall'aria, perché non solo erano quasi finiti, tra virgolette, gli aeroplani, ma mancava in maniera gravissima la benzina avio appunto per gli aerei. In realtà gli alleati non lo sapevano, ma l'operazione C3, cioè l'operazione che avrebbe dovuto portare i paracadutisti italiani tedeschi a sbarcare su Malta e a prendere l'isola, era stata annullata. Lo racconto meglio nella parte dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, ma vi basti sapere che dopo la vittoria ad Ainel Gazzala e la presa di Tobruk, Rommel, che nei piani originali avrebbe dovuto fermarsi, creare una linea di difesa e inviare la propria forza aerea a supporto proprio dell'invasione, aveva invece richiesto di mantenere la forza aerea, aveva richiesto che le truppe dell'invasione gli fossero destinate perché il suo obiettivo era quello di raggiungere il prima possibile il Cairo. Come finirà lo sapete tutti con la Seconda Battaglia di El Alamein, ma siamo a metà di agosto e questo ovviamente non è ancora avvenuto. Tutto questo gli alleati ovviamente non lo sapevano e il loro pensiero fisso era quello di trovare un modo di rifornire Malta. Per questo nell'agosto del 1942 venne organizzata la cosiddetta Operazione Pedestal. A differenza dell'operazione precedente, che come detto prevedeva due invii, uno appunto da Alessandria d'Egitto, uno da Gibraltar, l'operazione Pedestal prevedeva un solo invio. Ma ad essere ad accompagnare i piroscafi che sarebbero stati il numero di 15, ad accompagnare la nuova petroliera, l'Ohio, sarebbe stata una flotta di dimensioni tali che il Mediterraneo non aveva assolutamente mai visto in quegli anni di guerra. Gli inglesi misero a disposizione quattro portaerei, dalle più vecchie come ad esempio l'Eagle fino alle più moderne come l'Illustrius. Quattro portaerei che avrebbero dovuto avuto un duplice compito, sia proteggere dando protettura aerea ovviamente alla flotta, ma anche quello di trasportare degli Spitfire, i quali dotati di un serbatoio supplementare avrebbero dovuto a un certo punto lasciare le portaerei e atterrare a Malta, dove sarebbero dovuti unire ovviamente alle forze di difesa. Insieme a queste quattro portaerei c'erano due corazzate, insieme alle corazzate c'erano numerosi incrociatori e insieme agli incrociatori c'erano moltissime cacciatorpedinieri, insomma uno schieramento enorme che doveva servire a scoraggiare qualunque tentativo dell'asse di attaccarli. Il 10 di agosto le spie italiane Gibilterra fecero sapere che la flotta inglese aveva attraversato lo stretto. Questa volta ad attenderli i sommergibili italiani e tedeschi non si erano disposti come nella battaglia di Mezzogiugno, dove erano stati decisamente poco utili, non saranno dispersi lungo la flotta tra le Baleari e la Tunisia, ma saranno concentrati in dei veri e propri branchi di lupi che attaccheranno la flotta così come fanno i tedeschi nell'Atlantico. Il primo di questi branchi di lupi a scoprire la flotta nemica e ad attaccarla, cosa peraltro non difficile, date le dimensioni della flotta, colpì la mattina dell'11 di giugno. L'attacco mi è te una vittima decisamente illustra, addirittura una porta aerei, la Eagle, che colpite da due siluri, si capovolse portando a fondo insieme a sé 200 uomini d'equipaggio e una quindicina, 16 se non sbaglio, caccia tra quelli che erano destinati a Malta. Il caos che seguiva questo attacco, sia a causa della sorpresa, ma soprattutto perché alcuni aerei erano già partiti dalla Eagle e si erano trovati praticamente senza più un punto dove atterrare, furono costretti a buttare a mare degli aerei da un'altra porta aerei per permettere loro di atterrare. Il caos che ne seguì permise al gruppo di sommergibili di allontanarsi indisturbato, segnalando peraltro la posizione esatta della flotta all'asse. Da questo momento gli attacchi si faranno continui. Nella notte i primi ad attaccare saranno dei bombardieri tedeschi, ma dal mattino e soprattutto nel pomeriggio del 12 gli attacchi aerei provenienti dalla Sardegna e dalla Sicilia ad opera sia di aerei e bombardieri sia italiani che tedeschi saranno continui. Nei prossimi tra il 12 e il 14 di agosto più di 700 aerei dell'asse attaccheranno a più riprese, tra questi caccia che ovviamente davano copertura, bombardieri, bombardieri d'attacco al suolo come degli stuca che venivano utilizzati sia dagli italiani che dai tedeschi, ma anche ad esempio dei vecchi cacciariattati trasformati in aerosiluranti. Insomma, in tutti i modi l'asse cercò di impedire alle navi di raggiungere Malta. Gli attacchi ebbero dei risultati fantastici. Delle quattro e portaire rimaste, due vennero danneggiate. Venne affondato un incrociatore, vennero affondati dei cacciatorpedinieri, ma soprattutto vennero mietutie delle vittime tra i trasporti. Quattro dei trasporti affondarono, la petroliera, l'Ohio che viaggiava insieme ai trasporti, venne gravemente danneggiata. Durante questi attacchi gli italiani tentarono di usare anche quella che si considerava un'arma segreta, un'arma sperimentale, cioè il primo bombardiere radio guidato. Si trattava di un vecchio Savoia Marchetti SM79 che era stato riattrezzato per poter essere guidato da remoto, ovviamente non da lontanissimo, ma in realtà da un altro aereo che lo seguiva a poca distanza. Pensate che per non perderlo di vista l'aereo era stato completamente dipinto di giallo. Si trattava del primo tentativo di creare un appunto un aereo radio guidato. Funzionava con due controlli, uno che controllava l'altitudine e uno che controllava la posizione, insomma la capacità di virare e non erano neanche stati in grado in realtà di creare un meccanismo per partire in questo modo, tanto che un pilota doveva farlo decollare per poi gettarsi. Il tentativo, seppure molto affascinante, fallì perché l'aereo proseguì nella sua corsa, non riuscì ad attaccare le navi e proseguì fino a andarsi a schiantare poi in Algeria, ma credo che in futuro potremo dedicare una pidola a questo perché è molto molto interessante. Durante una delle pause tra questi attacchi, nel tardo pomeriggio, il grosso della flotta inglese decise di girarsi e tornare indietro. Le navi infatti si stavano avvicinando al canale di Sicilia e così come era avvenuto durante la battaglia di mezzo giugno, i rischi per la flotta erano ormai troppo grandi. Anzi, i rischi erano sotto gli occhi di tutti perché le perite c'erano state, erano stati gravi e così tutte le unità maggiori decisero di tornare indietro verso Gibraltar, cosa peraltro già ampiamente prevista. Da questo momento in poi proseguiranno solamente le unità minori a protezione del convoglio. Il 12 di giugno entra in azione un'altra parte dello schieramento dell'asse. Fino adesso abbiamo parlato di sommergibili, abbiamo parlato di aerei, ma qualcuno potrebbe dirmi, e la flotta? La flotta che tanto bene si era comportata durante la battaglia di mezzo giugno? Beh, la flotta fino a questo momento era stata tenuta al sicuro perché ci si era ben presto resi conto che non c'era nessuna possibilità di intervenire contro una flotta così grande come quella dell'alleata e la flotta era stata tenuta al sicuro ma il 12 di giugno lascia il porto e si dirige verso Pantelleria dove spera di poter intercettare la flotta alleata. In realtà la flotta italiana non giungerà mai a contatto con quella alleata. La flotta anzi cercherà di raggiungere Pantelleria, scoprirà che la flotta alleata e i mercantini sono molto più a sud e scoprirà che c'è una forte presenza di sottomarini alleati e nel timore di perdere delle navi soprattutto perché, ed è una cosa strana considerato quanti attacchi aerei ci erano stati fino a quel momento, giunse la notizia che tra il 12 e il 13 non ci sarebbe potuta essere una degna copertura aerea. Insomma per tutti questi motivi la flotta decise di tornare indietro. Purtroppo non lo fece senza danni perché due degli incrociatori, un incrociatore presente e un incrociatore leggero, il Bolzano e l'attendolo vennero fortemente danneggiati. vennero poi riportati in bacino di carenaggio, il Bolzano alla Spezia mentre l'attendolo a Napoli ed entrambi affonderanno prima della fine della guerra. L'attendolo bombardato mentre si trovava proprio nel ponto di Napoli mentre il Bolzano, che non sarà mai riparato prima dell'8 settembre, verrà poi fatto affondare da una missione inglese che lo farà affondare con una bomba sotto la chidia. Ma questa è un'altra storia. Mentre la flotta italiana non riusciva a raggiungere il luogo degli scontri, continuavano invece gli attacchi da parte degli aerei dei sommergibili. Va raccontata una storia. La sera del 12 di agosto un sommergibile italiano, l'Axum, mise a segno probabilmente uno dei più grandi colpi di fortuna della storia. Lanciando infatti quattro siluri, ripeto quattro siluri, che incredibilmente esplosero tutti, cosa che era abbastanza rara all'epoca, se vi ricordate cosa vi ho raccontato sui problemi dei siluri inesplosi nell'altra puntata. Ebbene, con quattro siluri riuscì ad affondare un incrociatore, il Cairo colpito da due siluri. Peraltro il Cairo faceva parte anche della spedizione che aveva portato alla battaglia di mezzo giugno e a danneggiare la petroliera, l'Ohio e un altro incrociatore, cioè il Nigeria, che fu costretto a tornare indietro verso Gibilterra. Gli attacchi, tra il 12 e il 13 di giugno, continuarono a mietere vittime. Incredibilmente, a salvarsi da questi attacchi fu la petroliera, proprio l'Ohio, che ebbe per così dire una grande fortuna. Nonostante fosse probabilmente l'obiettivo più importante, l'obiettivo più sensibile, per quasi un'antera giornata non fu attaccato dalle forze dell'asse, semplicemente perché l'avevano persa di vista. Dopo i primi attacchi, tra cui peraltro quello dell'Apsum che la danneggiò fortemente, l'Ohio fu costretta a procedere molto lentamente, con il risultato di allontanarsi dalle altre navi che preferivano procedere più rapidamente verso Malta e quindi distanziandosi dal convoglio, dove peraltro si concentravano ovviamente gli attacchi degli aerei dell'asse, venne persa di vista e in questo modo si salvò. Ad un certo punto le forze navali alleate entrarono realmente nel caos. Non si capisce bene il motivo, devo essere sincero, ho trovato due versioni diverse che vengono riportate da siti diversi, una è riportata tra l'altro da un libro, un'altra è riportata da un altro, quindi ve le dico tutte e due. Se qualcuno ha qualcosa di più approfondito me lo può dire. Ad un certo punto le forze iniziarono a disperdersi e questo rese molto più facile la caccia sia agli aerei che ai sottomarini, perché ovviamente delle forze disperse non erano in grado di offrire uno schermo protettivo a sufficienza. Il perché questo avvenne come detto a due versioni, la prima dice che semplicemente si fossero dispersi a causa degli attacchi dell'asse che aveva danneggiato alcune navi che avevano iniziato a rallentare, aveva spinto altre ad accelerare verso Malta con il risultato di allungare la flotta. La seconda versione invece dice che addirittura ci fu praticamente un ammutinamento da parte di alcuni piroscafi che trasportavano merci diretti verso Malta, i quali avendo visto affondare molti di loro compagni avevano deciso di voltarsi e tornare anche loro verso Gibraltar, con il risultato che alcune delle navi da guerra dei cacciatropedinieri li avevano dovuti inseguire, convincere anche un po' con la forza a riprendere la marcia sgranando in questo modo l'intero convoglio. Nella notte tra il 12 e il 13 avvennero gli ultimi attacchi. Questa volta a portarli furono dei MAS, dei motosiluranti, i quali condotti in parte da italiani, in parte da tedeschi, scivolando tra i campi minati, attaccarono le navi. Due di questi riuscirono addirittura a distruggere un incrociatore, il Manchester, ma soprattutto fecero ancora scempio dei piroscafi. Attaccarono dei mercantili, ne affondarono alcuni, ne indebolirono e quasi affondarono altri, ma soprattutto riuscirono a piazzare un altro colpo a segno sull'Ohio, che con tutte le riparazioni che stavano cercando di fare aveva quasi riguadagnato il contatto con il resto del gruppo. In realtà questo fu l'ultimo grande attacco. Nel giorno successivo, a causa della presenza di sempre maggiori aerei che partendo da Malta andavano a proteggere con voglio, si decise di rallentare gli attacchi per non perdere troppo aerei. Si decise di non tentare una nuova spedizione con le navi, che probabilmente in queste condizioni avrebbe semplicemente giocato al tiro a segno con i mercantili dispersi e il risultato fu che tra il 13 e il 15 cinque mercantili riuscirono a raggiungere Malta, alcuni in condizioni terrificanti, ma in grado di scaricare i loro rifornimenti che permisero all'isola di rifornirsi e di potersi difendere ancora per molti mesi. L'ultima ad arrivare addirittura il 15 di agosto fu la Ohio. La Ohio che come detto era stata colpita da aerei, era stata colpita da sommergibili, le aveva subite tutte ma che alla fine, seppur in condizioni terrificanti, riuscì a raggiungere Malta e sicuramente fu il più grande regalo che l'isola poteva avere perché insieme all'Ohio riuscì ad arrivare moltissima benzina avio per alimentare gli aerei a protezione dell'isola. Pensate che l'Ohio arrivò in condizioni talmente brutte che dopo aver scaricato la benzina venne spostata e fatta affondare perché non si pensava di avere nessuna possibilità di poterla riparare, si temeva che un attacco dall'alto avrebbe potuto farla affondare nel porto con tutte le complicanze del caso. Il relitto verrà poi spostato a fine guerra. Insomma, la battaglia di mezzo agosto, se vogliamo, fu dal punto di vista puramente tattico una vittoria ancora maggiore rispetto alla battaglia di mezzo giugno. Le forze alleate avevano veramente schierato tutto quello che potevano schierare. Quattro portaerei, due corazzate, incrociatori, cacciatorpedinieri e nonostante questo, nonostante questo, le forze dell'asse avevano inflitto da loro delle perdite gravissime, assolutamente non paragonabili come numero a quelle subite dalle navi italiane. Un risultato che probabilmente è frutto soprattutto della ritrovata compattezza tra le varie forze, appunto gli aerei, la flotta, i sottomarini. Eppure mezzo agosto è anche una sconfitta strategica. Vedete la differenza? Tatticamente hanno vinto, ma dall'altra parte è una sconfitta strategica, perché a mezzo giugno, pur avendo inflitto delle perite molto minori, erano riusciti a impedire che i rifornimenti arrivassero in gran numero. Invece, dopo la battaglia di mezzo agosto, l'isola di Malta sarà rifornita e con quei rifornimenti potrà continuare a combattere per molti mesi, fino a quando la battaglia ad Africa terminerà e potrà essere liberamente rifornita dalla flotta inglese. Insomma, mezzo agosto è una grande vittoria, una vittoria per i bombardieri, una vittoria per la flotta forse un pochettino meno, diciamo più per i sommergibili, una vittoria per i mass, ma è una sconfitta per l'asse, che non è riuscita a fermare il rifornimento della sua spina nel fianco, una spina nel fianco che non conquisterà mai. Bene, con questo è tutto, ci fermiamo qua, ci sono tante piccole storie forse da aggiungere, magari in futuro faremo una pillola dedicata soprattutto a questo aereo radiocomandato, ma ne parleremo meglio in futuro, anche perché voglio cercare un po' più informazioni. C'è sempre molto poco, se avete qualcosa da consigliarmi su questo argomento che mi incuriosisce molto, mandatemelo, perché veramente vorrei leggere qualcosa di un pochettino più approfondito. Detto questo io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per vedere i prossimi e come al solito vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti storie incredibili, storie fantastiche che aspettano solo di essere raccontate e che sono molto più belle, molto più particolari di quelle che la fantasia di uno scrittore o di un regista potrà mai mettere nelle loro opere. Se volete iniziare a curiosare tra queste storie, qui a fianco c'è l'elenco delle pillole di storia. Vi ho detto che siamo, ciò che cambierà sarà El Alamein, domani nella puntata dedicata alla seconda guerra mondiale parleremo proprio della seconda battaglia di El Alamein. A domani, ciao ciao!